Salve, dottoresse state? Sì no sono le mie specializzante. Allora aspetta che finiate con loro, stanno qui così vedono come un tirocinio, vedono come funziona. Ah ho capito, ho capito. Signor Lundini. Lundini, sì. Grazie. Leggo qui che lei ha qui un brutto prolasso emorroidale. Prolasso normale. Abbastanza violento, vedo anche qui con pustole purulente sul bordo dell'anno. Questa forse è una gattella vecchia probabilmente. No, no, è l'ultima. Vedo che lei poi, le ho prescrito gli unguenti, lei le ha spalmati questi unguenti. Sì. Giusto, eravamo rimasti così. Meglio. Meglio è stato, ma guardi, probabilmente neanche era nulla di questa, era più una psicosi. Mi ricordo che lei infatti traeva beneficio facendo queste rumorose flatulenze durante l'atto della defecazione, se non sbaglio, quindi che arieggiavano un po' le parecchie dell'anno.